Due statue della Madonna e un quadro come questi, ennesimo colpo di scena sulla vicenda della sedicente veggente Gisella Cardia e delle performance spirituali di cui si dice destinatari insieme al marito Gianni. In queste ore su disposizioni della procura di Civitavecchia i carabinieri hanno infatti sequestrato due statuette della Vergine e un quadro con immagine di Cristo appartenente alla coppia. Su questi manufatti nel tempo si sarebbero verificate lacrimazioni e trasudazioni. Nella notizia in questa nota il procuratore della Repubblica di Civitavecchia Alberto Liguori che spiega come gli stessi simulacri erano già stati oggetto degli accertamenti condotti dal RIS dei carabinieri nel corso delle prime indagini ma non erano stati resi pubblici i risultati. Ora gli esami si rendono nuovamente necessari considerato il procedimento in corso con l'ipotesi accusatoria di truffa in concorso per la sedicente veggente e il marito. Su questa controversa vicenda e le asserite apparizioni della Madonna nel terreno di loro proprietà nel comune laziale lo scorso marzo era intervenuto il Vescovo di Civita Castellana, Monsignor Marco Salvi che con un decreto aveva definito non soprannaturali i fenomeni di apparizioni e rivelazioni asseriti dalla signora Gisela e dal marito Gianni, decisione confermata anche dal Vaticano. Per la diocesi di Civita Castellana se non ci sono ulteriori gravi elementi il caso della Madonna di Trevignano è chiuso. A questo proposito il decreto diocesano del 6 marzo 2024 secondo la diocesi validato tra l'altro dallo stesso di Castello Vaticano della Dottina della Fede è tombale.